Nome? Leola. Nome? Tiziana. Cognome? Bellecchia. Cognome? Bellomo. Da quanto tempo state assieme? Da sette anni. Da quanto tempo state assieme? Eh, sei anni e mezzo. Il primo bacio? Eh, a giugno del 2005. Il primo bacio? Giugno. Sì, giugno del 2005. La prima sera che siete usciti, dove ti ha portato? Dove l'ho portato? Ah, al contrario? Dove l'hai portato? Era il mio compleanno. A La Habana, qua a Viva. Che cosa gli hai regalato? Bagliato. Cosa? Che cosa gli hai regalato al suo compleanno? Eh, al primo compleanno l'ho fatto assieme agli amici, un completino intimo. Tre aggettivi per descrivere lui? Simpatico. Tranquillo. Poltrone. Tre aggettivi per descrivere lei? Dolce, simpatica e caparbia. Il suo peggior difetto? Me ne freghista. Il suo peggior difetto? Troppo orgogliosa. Quando vieni a Bari Blu, qual è il primo negozio che visiti? Abbigliamento da donna, in genere. Quando vieni a Bari Blu, qual è il primo negozio che visiti? Fitarello. Se ti dico Bari Blu, a cosa pensi? A Bari. Se ti dico Bari Blu, a cosa pensi? A Tiziana, che vuole fare spese. Perché hai deciso di partecipare a questo gioco? Per divertirmi. Perché hai deciso di partecipare a questo gioco? Perché mi ha portato lei. Che cosa pensi di ottenere con questa intervista? Vincere. Che cosa pensi di ottenere con questa intervista? Che Tiziana è contenta e stasera non rompe le scato. Mi mostrate un getto d'affetto? Un saluto a Bari Blu. Ciao Bari Blu. Ciao Bari Blu.